come si sente lei notaria qua da noi questa clinica la clinica di per sé si è molto ospitale molto devo dire che comunque è nelle mie aspettative io avevo immaginato così proprio così sì perché altrimenti non sarei venuto e noi siamo migliori invece migliori non so cosa intendi per la qualità del lavoro dei professionisti proprio perché immaginavo così altrimenti non sarei venuto quindi per me ho trovato quello che io mi aspettavo perché altrimenti non avrei fatto le cose come si sente dopo la chirurgia come è stato il chirurgo dopo il proprio chirurgo è stato molto molto professionale molto bravo devo dire che adesso io non so chi sia il migliore se c'è un migliore che però colui che ha preso la situazione in mano ha preso direttamente la posizione che doveva prendersi è stato bravissimo salve sono mi chiamo renato renato pozzone vengo da torino e sono qui in questa stupenda clinica per cure dentarie anzi molto anche molto approfondite l'impatto è stato molto molto positivo ma prima da parte dei dell'amministrativo delle insomma del personale è stupendo ci sono poi delle ragazze le persone che ti seguono molto molto da vicino e sono sempre disponibili la parte invece come dire quella professionale odontoiatrica eccetera anche lì mi sono trovato benissimo ragazzi giovani preparati parlano qualcuno parla anche in italiano inglese per cui non c'è problema e niente è stata è una bella esperienza dovrò ritornare ma ci ritorno con piacere perché mi sono trovato veramente bene grazie a tutti grazie a tutti